ciao a tutti oggi con l'aiuto della mia aiutante camilla mia nipote vi faccio vedere un po di prodotti viso skin care e anche acquisti di erboristeria allora partiamo intanto dalle maschere che vedete tutte qui dietro eccole qui allora qui ci sono due maschere capelli anzi partiamo da qui allora questa è una maschera della balea questa è stata acquistata al dm a milano ed è una maschera per piedi quindi sono due calzini a limone e miele molto molto buona burro di karité insomma veramente valida eccola qui poi abbiamo due maschere per capelli della sien e questa qui è il turbante mentre questa qui è soltanto per la coda sono valide anche queste devo dire le ho provate non sono male anche se da lidl bisogna sempre vedere quello che si trova al momento e poi qui abbiamo maschere viso allora qui abbiamo un'altra della balea sempre presa al dm queste sono i patch occhi ecco il qui e poi qui abbiamo due maschere della geomar in tessuto che io adoro queste maschere questa idratante ad azione intensiva per una pelle fresca e luminosa mentre questa è per una pelle più levigata e rassodata e anti age molto buone queste in tessuto mi piacciono molto e poi questa qui che non ho mai provato che è della skin station l'ho presa da tigota vedremo come sarà però la cosa che mi incuriosita era che fosse al carbone fosse nera eccola qui e queste sono le maschere che ho al momento in utilizzo poi invece per quanto riguarda la skin care sto utilizzando questo qui che è una mist quindi un tonico di iepoda molto buono questo è la lavanda e la cosa comoda è che in spray di questi prodotti mi piace anche il pack che in vetro molto molto carino ben fatto devo dire la verità il prodotto è buonissimo anche piuttosto idratante però senza lasciare la pelle unta quindi veramente un buon prodotto anche se costano però è un buon prodotto poi abbiamo questo siero concentrato di questa marca che ho trovato da acqua e sapone acido ialuronico bio vuol dire che buono si assorbe anche bene insomma sulla pelle e sempre della stessa marca ho preso anche questo che è uno scrub esfoliante sebo equilibrante carbone vegetale zenzero pulificante questo ancora è da provare quindi vedrò come mi troverò ma con il siro mi sono trovata bene e poi ho acquistato anche super scontata questa crema gel dei provenzali alla lavanda anche questa molto buona si assorbe in fretta devo dire valida a un buon prezzo ed è molto valida il prodotto invece che mi è piaciuto tantissimo è questo qui questo è di dolomia questo l'ho preso in farmacia ed è un acqua idratante delle dolomiti molto buona idratante tra l'altro è antinquinamento quindi va benissimo sia per fissare il trucco sia come base trucco sia come tonico e ha un ottimo profumo senza essere troppo invadente molto molto buono e rinfrescante e mi sto trovando benissimo e poi vi faccio vedere qualche acquistino di erboristeria allora che sono questi tre allora intanto vi faccio vedere questo questo è un burro di karité dell'uganda molto valido devo dire molto idratante nutriente mi piace su tutto il corpo anche per i piedi insomma le zone più secche veramente ottimo questo qui è la seconda volta che lo acquisto poi questo che è un'acqua profumata di nasoterapia e ora di splendere un'acqua bruma illuminante questa è buonissima senza alcol rinfresca tutto il corpo lascia una profumazione l'abbiamo provata anche prima lascia una profumazione ottima e poi la mi piace tantissimo anche la confezione che è di vetro eccola qui guardate com'è bella questa sembra di raso questa etichetta belli insomma sono dei bei prodotti anche esteticamente si presentano veramente molto bene e sono naturali e poi in ultimo questa scatola splendida viaggio in provenza questi c'erano tre linee diverse sempre nasoterapia però questa che ho scelto io a questi tre oli essenziali sprigionano un profumo strepitoso allora c'è la lavanda il limone e la menta questi messi nel diffusore che io uso tantissimo veramente manano una profumazione splendida ecco qua quindi questo è il mio ovviamente questo poi si conserva e si mettono magari materiali creativi dentro e poi ci hanno regalato un po di campioncini questa è una cc cream della lepo poi ci sono un po di tisane della valverbe ciocco arancio depura melograno limone zenzero e poi anche questi due doccia shampoo di terre di amerigo che ovviamente poi proverò quindi questi erano tutti gli acquisti e i prodotti skin care che sto utilizzando nell'ultimo periodo ecco qui la carrellata generale ed ecco qui tutti i prodotti nulla noi vi salutiamo e vi mandiamo al prossimo video se vi va ciao ciao